I vertici di Poste Italiane incontreranno i comuni, le categorie e le istituzioni abruzzesi il prossimo 4 aprile all'Auditorium Petruzzi di Pescara dalle ore 9. Un altro risparmio è possibile, Poste Italiane Amica del Territorio, il tema dell'incontro che è stato presentato dal senatore della PD Luciano D'Alfonso. Per la prima volta vengono in Abruzzo e a Pescara l'amministratore delegato dell'ente Poste, il dottor Delfante e il condirettore generale di Poste S.p.A., il dottor Lasco. Porteremo a convergenza i contributi dei commercialisti attraverso il presidente dell'Ordine di Pescara, Di Bartolomeo, il presidente Lance, Giro Limetti, alcuni accademici come Masciarelli e Salerno porteranno il punto di vista dell'università sull'educazione finanziaria e sul risparmio e anche il punto di vista dei piccoli comuni all'interno di Anci, così come il sindaco di Fossacesia, che è vicepresidente di Anci a livello nazionale, e poi il coordinatore dei borghi più belli d'Italia, Antonio Di Marco, che porterà alla voce l'esigenza e la domanda dei piccoli comuni di avere, per esempio, i postamatti, i bancomatti e le poste, per fare in modo che questo servizio arrivi ovunque, così come fu la missione originaria delle poste per l'Italia del dopoguerra. Le poste non hanno mai ingannato i risparmiatori. Contratti sempre chiari hanno sempre portato rispetto con lealtà a coloro i quali hanno consegnato il proprio risparmio ad un bancone di ente poste. Noi vogliamo che questa cifra sia la cifra del rapporto tra lo Stato, le istituzioni, l'economia sostenuta dal pubblico e i cittadini. E vogliamo che le poste continuino ad essere un'istituzione, come è accaduto con serietà durante la pandemia, non è stato chiusa per un'ora un ufficio postale in questa regione. Per dire grazie, per rilanciare questa grande tradizione, faremo incontrare i rappresentanti della cittadinanza, i sindaci, con i rappresentanti di vertice di poste S.P.A. Le poste sono anche una grande occasione di lavoro. Ricordiamo il luogo, la data e l'ora. Lunedì mattina 4 di aprile, alle ore 9.30, presso l'auditorium Petruzzi a Pescara in via delle Caserme.